E con solo per voi, direttamente da Rinaus Records, Giuliano Mechetti, DJ, la macchina del suono. Grazie Peruncio, grazie. E arriva la terza doccia, ragazzi. Ci facciamo la doccia? Ascendiamo allora, dai. Vi voglio tutti quanti qui di fronte alla console, tutti quanti schiacciati come sardine. Tutti, 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 tutti. Fammi vedere come ho feci le mani, fammi vedere come ho feci le mani della console. Ho feito, ho feito, ho feito, ho feito, ho feito.